... Tu sei vestito da... Eh, da tirannosauro, un animale estinto. Come mai? Come mai? Beh, ovviamente i dinosauri si sono estinti per altri motivi, però anche noi esseri umani rischiamo l'estinzione. Ormai ci sono diversi studi scientifici che dicono, ad esempio, che una causa dell'epidemia di Covid-19 è proprio quella dello sfruttamento, del sovrasfruttamento delle risorse e degli ecosistemi e una sua aggravante alla diffusione è stato proprio anche l'inquinamento atmosferico. Ora, Unicredit nel 2020, l'anno della pandemia, ha deciso di concedere prestiti e sottoscrizioni a società del settore petrolio e gas naturale per 5,8 miliardi di euro ed insieme a Intesa San Paolo è responsabile dell'80% delle emissioni di CO2 dell'intero comparto finanziario italiano. grazie. Ciao Grazie